tu usi wish? lasciamo fare dai siete troppo tecnologici fra un po' perché ora c'è anche aliexpress e te usi wish o aliexpress? no io ancora uso di andare e trattare direttamente vai di mano insomma vis a vis ho capito ho capito voi fra poco andrete a letto con chi? col computer perché pensi che già non ci si vada? senti ringraziamo il signor Marcello che è un nostro telespettatore che ci ha segnalato qui siamo alla pace effettivamente c'è una bella pace perché senti si sta bene qua è bella la pace è bella la pace è uno dei più bei posti dove uno vorrebbe venire anche a abitare perché si sta bene magari qui non è stata no? no vabbè però c'è delle belle casettine qui è bello il posto e ci ha segnalato che qui si sono dimenticati di potare quest'albero perché come vedi ci pensano i camion vedi? sicuramente i camion cioè i camion e i pullman quando passano da lì ovviamente si prendono una bella botta di rami speriamo che i rami non crescano molto perché sennò fa la mia fine che poi vedi cresce in orizzontale e vuole andare dall'altra parte sì sì speriamo che i rami non crescano molto perché altrimenti fa la mia fine che ho fatto la settimana scorsa niente andavo a marciandietro con l'unotto un po' coperto ero carico destra libero sinistra libero centro querciolo pieno distrutto l'unotto della macchina vabbè vabbè è meglio lui che io e quindi che macchina era? della citrone? ah è il cosa quel furgoncino che c'hai e quindi insomma ogni tanto questo verde pubblico andrebbe sistemato un po' meglio sì magari anche i cittadini sarebbe il caso lo segnalassero perché non so se vengono segnalate queste cose molte volte perché molte volte il cittadini è pronto ma non segnala invece c'è il numero del verde pubblico del comune di Arezzo sicuramente potrebbe intervenire perché questo qui non è un gran lavoro perché la pianta è veramente grande veramente grande non so che tipo di pianta che è un letto non lo vedo da qua però sembra di quelli abbastanza stabili che non credono problemi alla viabilità con questi fortunali che ci sono adesso se no sono pericolose queste piante così lungo la strada beh comunque sia sarebbe il caso di intervenire e dare in asfoltita se non altro alzarlo a modo tale che ogni volta che parlano passano poi buttano giù fogli, buttano giù piccoli rami e quindi di conseguenza sporcano anche la sede stradale vabbè rivolgiamoci al verde pubblico visto che questa è una strada comunale che il verde pubblico intervenga per farsi appunto che si tagli questi rami e quindi se avete questi problemi la viabilità magari ecco non ci sarà un via vai continua di camion no qui sicuramente non anche l'autobus si passa una volta sì ma una volta aperto via il Torrino qui i camion sicuramente sono molto molto pochi l'autobus si passa però sì ce ne passa più di uno di qui quindi di conseguenza ma forse è l'autobus che ha creato l'altezza perché siamo subito giù altezzato siamo altezzato l'ha livellato dove deve stare eh sì per tagliarlo poi penso si deve chiudere parzialmente la strada ma non è un grandissimo lavoro adesso ce la fanno sì risolverò un po' poco tempo ce la fanno vedo poi altri alberi andando avanti mi sa che non come questo ma ce ne sono tutti tutti sulla sede stradale tutti sulla sede stradale hanno questa problematica quindi anche dalla parte di qua quindi ecco speriamo insomma che venga tagliato quanto prima questo venga insomma potato questo questo albero perché può essere anche un pericolo insomma per la per l'incolumità di mezzi pesanti esatto bene ci vediamo domani ciao